non so più cosa pensare buongiorno fratelli rossoneri buona giornata ma secondo voi carletto prima o poi il fiasco lo posa cioè veramente ma secondo voi smetterà mai di bere ma di chi sto parlando secondo voi carletto chi è carletto l'emblema dell'emblema del milan con lui che ci viene a dire che ibrahimovic trequartista può fare solo che bene perché all'ajax giocava come trequartista perché lui ai piedi per fare il trequartista ma di cosa stiamo parlando ho visto ho visto insieme agli amici oggi la probabile formazione che potrebbe venire fuori contro la dove ho visto delle aberrazioni ho visto trequartista ibrahimovic e davanti girù non ci siamo non ci siamo non ci siamo proprio non ci siamo proprio perché siamo quasi che ci stiamo arrampicando sugli specchi siamo quasi che non abbiamo in mano il pugno della situazione non riusciamo a capire cosa veramente bisogna fare per questa squadra al netto del fatto che diaz ormai è in una fase ampiamente discendente in una fase ampiamente calante si va a pioli stanno a cercare sicuramente delle garanzie altrove ma le garanzie altrove non sono sicuramente mettere ibrahimovic trequartista ripeto sono probabili formazioni perché l'altra probabile formazione è la coppia girù ibra io personalmente la semplice tifoso e ignorante perché mi reputo ignorante non mi voglio atteggiare non mi atteggio a conoscitore profondo calcistico credo che in quella posizione la trequartista sicuramente messia meriterebbe una chance di più rispetto a ibrahimovic ma per esplosività per visione non che ibrahimovic non abbia la visione di gioco ma trequartista non è il suo ruolo per quanto lo si voglia osannare per quanto qualcuno lo sanni in quel ruolo ma non è non è non è la soluzione adatta non è la soluzione assolutamente adatta da dare da farlo da metterlo in campo come trequartista non esiste proprio mai nessuno in nessuna situazione almeno questo è il mio pensiero quindi ci troviamo nuovamente la situazione di emergenza dove si cerca di mischiare le carte per provare a non fare una figuraccia o per lo meno provare a portare a casa il risultato contro la juventus e poi contro l'inter la lotta positiva se così vogliamo chiamarle che rientra romagnoli rientrerà probabilmente benasser e se così fosse non subito non subito nel prossimo futuro nei prossimi nelle prossime giornate la coppia dei mediani sarà sicuramente formata da benasser e tonali mi dà sicuramente più speranza però come già dicevo è una coppia di ragazzi fisicamente non possenti e nell'interdizione potremmo avere qualche problema quando si trovi di fronte giocatori come quelli dell'inter che hanno più prestanza fisica e sono più e sono sono nettamente fisica sul piano fisico più forti niente detto ciò io spero veramente che che le carte vengano mescolate ma in maniera intelligente perché se dovessi vedere una situazione come quella che si prospetta non non mi farebbe molto felice avrei dei grossi dubbi poi magari arriviamo lì Ibrahimo vc trequartista ci fa la partita del secolo e scopriamo di avere un 41enne trequartista che fa i numeri però ho i miei dubbi andiamo subito sulla situazione mercato mercato sembra sembra che dopo le varie virate controvirate svolte stop ripartenze contrattuazioni finite male ci stiamo buttando su tatanga del tottenham giocatori di 22 anni forte fisicamente molto però molto legato la squadra del tottenham che pare abbia aperto la possibilità di cessione in prestito al milan e si sta lavorando sulla formula del diritto di riscatto che però il tottenham vorrebbe l'obbligo di riscatto la valutazione del giocatore siamo intorno ai 25 milioni però sicuramente è una valutazione limabile una valutazione su cui si può lavorare quindi 25 milioni potrebbero diventare 20 22 e se fosse come l'operazione tomori tanto di cappello e ben venga però questo ripeto solo uno dei nomi e non credo l'ultimo della lista visto che tutti gli altri si sono chiusi o sono difficili per le condizioni che detta al milan perché ricordiamo che la difficoltà molto spesso sta nelle condizioni che il milan detta e che vorrebbe ottenere dalle squadre da cui prende i giocatori quindi questo è il nome che risalta in questo periodo io sarei molto contento perché a me piace tatanga e lo apprezzo molto mercato in uscita in uscita siamo ancora fermi sulla situazione castiglieco non ci sono novità per appare che ci siano 500 squadre interessate tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia conti ce ne siamo diciamo liberati tra virgolette e quindi ci siamo liberati anche di un ingaggio abbastanza importante di 2,2 milioni di euro netti a stagione è vicinissimo il riscatto di pellegri a 4 milioni 4 milioni e mezzo molti storcono il naso perché dicono giocatore sempre rotto che andiamo a riscattare chissà per quale motivo io credo che se la società abbia fatto una scelta del genere è perché o punto primo crede molto nel giocatore perché la possibilità poi di mandarlo in prestito per un paio d'anni si parla addirittura al torino quindi una società minore con tutto rispetto dove potrebbe crescere e rimettersi a posto molto tranquillamente come ha fatto tra l'altro pobega che sta facendo molto molto bene o semplicemente c'è una mossa molto più strettamente economica in cui il milan decide di acquistarlo e poi rivenderlo nel futuro prossimo magari se si rimette in discussione fa vedere le qualità a un prezzo magari più elevato quindi parliamo di di fare plus valenze con un giocatore quello che mi preoccupa sinceramente lo dico anche a voi lo chiedo anche a voi se avete preoccupazioni in merito è il fatto che comunque il ci liberiamo di di un giocatore come pellegri che per quanto si sia rotto non era proprio in ottima forma ma rimaniamo con solo i due attaccanti davanti che sono i brevi c'è Giroud al netto della della speranza che siano sempre bene ricordiamo che Giroud comunque a 35 anni Ibra va verso i 41 anni e con la continuità e il continuo giocare che sta facendo Ibra in campionato è ovvio è logico ripeto vista anche l'età poi magari non succede che potrebbe avere ancora problemi fisici e a quel punto cosa fai da gennaio giugno rimani con un solo attaccante ruolo con solo con Giroud non capisco i ragazzi continuano a comprendere forse alla fine è vero che se non sei dentro il piano la visione che ha la sua società non puoi comprenderla però quello che dall'esterno noi cerchiamo di vedere vediamo è che sono tante anomalie che non ci tornano continuiamo a dare il prestito giocatori giocatori che potrebbero essere importanti ripeto soprattutto pobega e invece di tenere la nostra azione che è al netto dell'emergenza quindi seguiamo con attenzione quello che sta succedendo perché io vedo che siamo arrivati siamo arrivati quasi a fine gennaio e non si è mosso assolutamente nulla sul mercato e mi piacerebbe capire il motivo mi piacerebbe capire il motivo perché due sono le situazioni o preferisci come società rimanere lì e galleggiare nelle alte posizioni per qualificarti alla champions ma attenzione perché è un gioco molto rischioso molto rischioso oppure hai qualche carta di riserva che giocherai verso la fine gennaio io la mia speranza ovviamente la seconda la seconda speranza è quella di avere poi dei risvolti verso fine mercato che ci possono far dire ah minchia vedi ci sbagliavamo in realtà hanno fatto questo questo e questo ho dei dubbi ho dei dubbi perché secondo me l'intenzione è quella di non spendere non c'è voglia di investire ulteriori capitali per rafforzare la rosa magari questo può il preludio alla vendita imminente staremo a vedere io intanto vi auguro buona giornata speriamo bene soprattutto nelle prossime partite poi ci sentiamo nei prossimi giorni saluto gabriele il mio socio di video che ha fatto anche un video stamattina mi raccomando guardatelo e noi ci aggiorniamo domani e sempre sempre forza mila ragazzi e buona giornata ciao a tutti